Il racconto. Fiave, storie e racconti. Una rubrica creata dai volontari della società Dante Alighieri del Michigan. Buon ascolto a tutti. Il palazzo di gelato di Gianni Rodari da favole al telefono. Una volta a Bologna fecero un palazzo di gelato proprio sulla piazza maggiore e i bambini venivano di lontano per dargli una leccatina. Il tetto era di panna montata, il fumo dei comignoli di zucchero filato, i comignoli di frutta candita. Tutto il resto era di gelato. Le porte di gelato, i muri di gelato, i mobili di gelato. Un bambino piccolissimo si era attaccato a un tavolo e gli leccò le zampe una per una finché il tavolo gli crollò addosso con tutti i piatti. I piatti erano di gelato al cioccolato, il più buono. Una guardia del comune a un certo punto si accorse che una finestra si scioglieva. I vetri erano di gelato alla fragola e si squagliavano in rivoletti rosa. Presto! gridò la guardia. Più presto ancora! Ancora! E giù tutti a leccare più presto per non lasciar andar perduta una sola goccia di quel capolavoro. Una poltrona! implorava una vecchiettina che non riusciva a farsi largo tra la folla. Una poltrona per una povera vecchia! Chi me la porta? Coi braccioli si è possibile! Un generoso pompiere corse a prenderle una poltrona di gelato alla crema e pistacchio e la povera vecchietta, tutta beata, cominciò a leccarla proprio dai braccioli. Fu un gran giorno quello e per ordine dei dottori nessuno ebbe il mal di pancia. Ancora adesso, quando i bambini chiedono un altro gelato, i genitori sospirano. Eh già, per te ce ne vorrebbe un palazzo intero, come quello di Bologna. A letto per voi, Silvia Giorgini A letto per voi, Silvia Giorgini